Alla cinquantesima mostra dell'artigianato raccontiamo la cura per i dettagli e la manualità del settore. Tra tradizione e innovazione, non perdere l'occasione di venire a visitare le migliori produzioni, le eccellenze e le qualità di 200 aziende che ti aspettano all'Ario Fiere dal 28 ottobre al 1 novembre. Lasciati coinvolgere dalle molteplici proposte di eventi e iniziative collaterali, programmate per i 50 anni della mostra. Info 031 6371 www.mostraartigianato.com